23 aprile 2012, ore 12.33, vediamo le macchine in sosta sulla marina di Napoli questa è la mia macchina, notare il tagliando vediamo le altre niente disabile disabile eccoci, l'unico fesso che paga come me disabile guardate, guardate tutti disabili a Napoli addirittura disabile nel Q5 anzi no, Q7 e avanti disabile Napoli che paga e avanti così ovviamente la vigilanza non paga e questo è a Napoli è proprio c'è la mia macchina l'unico fiume è una nuova è un'ultimo Grazie.